Il footwork è importante per tutte le arti marziali, per quanto riguarda il kali è diviso su 5 triangoli. Questi 5 triangoli partendo dal primo e mantenendo sempre il nostro centro, è il triangolo 1 o maschile. 2 femminile, neutro 3, 4 uong suong, e 5 e anche ultimo. Triangolo ritirata. Ora andiamo a vedere le applicazioni su ognuno di questi triangoli. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.